E avere quest'idea che la tutela delle sponde può aprire degli spazi alla tutela delle specie, sia degli uccelli ma anche in generale degli insetti, oppure per quello che riguarda specialmente il greto del fiume anche per i piccoli non invertebrati, effettivamente è importante. E' la lezione che arriva da Pistoia, dove l'azione congiunta di Lipu, Consorzio di Bonifica, Medio Valdarno e Carabinieri Forestali, ha come scopo la tutela di una particolare specie protetta di volatile, il Corriere Piccolo. Tra le specie rare protette che nidificano nel nostro paese, una coppia di Corriere Piccolo, il cui nome fa riferimento alle ridotte dimensioni, non supera infatti 15 cm di lunghezza, ha scelto come luogo di cova l'argine dell'ombrone pistoghiese, nel tratto tra Gello e Puntelungo. Questi piccoli hanno un'unica difesa, quando si sentono un pericolo si immobilizzano, sembrano dei piccoli sassolini, perché sono grigini, come le piumine grigine, come i sassi del fiume, e sperano che li vada bene. Se si aggiunge al normale rischio, diciamo così, naturale, per esempio le cornacchie grigie che vanno a predare le uova, predano i piccoli, ci si aggiunge al disturbo umano, effettivamente questi fanno una fatica enorme per portare a fine la nidificazione. Per tutelare il nucleo familiare, due adulti ed altrettanti piccoli, dopo la scoperta del nido da parte della Lipu, il Consorzio ha così deciso di stoppare nelle vicinanze di sfalci. Per impattare il meno possibile su questa specie abbiamo lasciato alcune isolette che servono appunto come habitat naturale protetto per questi uccelli. Abbiamo avuto la grande soddisfazione della risposta da parte del Consorzio e della risposta da parte della Forestale, cioè tutti e due questi enti ci hanno contattato per avere informazioni, sono passati per fare del monitoraggio, la Forestale, e il Consorzio poi, devo dire la verità, è stato perfetto in questa occasione. La manutenzione va avanti, quello che può sembrare una mancanza invece è premeditato, l'abbiamo lasciato per salvaguardare questa specie, proseguiremo comunque con ulteriori tagli, quando poi faremo il taglio in periodi più avanzati, qui torneremo a agosto e torneremo anche a ottobre, a sfalciare, in quell'occasione se non ci sarà più l'anidificazione, ci informeremo con i tecnici, esperti che seguono gli animali, potremo fare anche un taglio un po' più avanzato.